La vittima è stata assassinata a colpi di pistola alla Vuciria nel centro di Palermo. Si chiamava Emanuele Burgio, aveva 25 anni e è stato raggiunto da tre colpi. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite per strada. Emanuele Burgio, figlio di Filippo, già condannato per mafia, fu coinvolto nell'operazione dei carabinieri Ibris nel luglio del 2011 ed è stato condannato con sentenza definitiva a nove anni. Teneva i conti della famiglia di Palermo Centro per un periodo ha gestito la posta e l'allora latitante Gianni Nicchi. Emanuele Burgio, ieri notte, è arrivato al policlinico accompagnato da amici ma non c'è stato niente da fare per salvarlo. È morto poco dopo. Secondo una prima ipotesi formulata dalla polizia, la morte di Burgio potrebbe essere riconducibile a contrasti nel mondo e lo spaccio nelle piazze di Palermo. Ma le notizie, come i punti di riferimento in questa prima fase delle indagini, sono ancora frammentarie. Oltre 200 persone, tra parenti e amici della vittima, si sono radunate nei pressi dell'ospedale per avere notizie e quando è stato comunicato il decesso ci sono state scene di rabbia e di disperazione.